Sì, dopo vuole la palla, con il suono è molto bella, ancora fatto di Fusta, la respinta, tutti i giudici, i dottori di Michelangelo, della Rocha, ha già disputato quattro amichevoli, tre in Francia, la prima contro una squadra, il secondo era in ritmo, tanto la giocera di cuore, la porta a fiorarsi, una di piante. Grazie a tutti.